Occupiamoci ora dell'emergenza sanitaria con il nuovo bollettino diffuso oggi, oltre 500 in nuovi casi con un aumento record nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Fabio Lussoso da Ortona. Buonasera Fabio. Sì Paolo, buonasera. Prendiamo qui la linea in diretta dal pronto soccorso dell'ospedale Bernabeo di Ortona, dove quest'oggi l'assessore Verì, insieme al direttore della ASL di Chieti-Lanciano Vasto, Thomas Schell, ha fatto un sopralluogo prima al nosocomio di Chieti e poi qui ad Ortona, dove è stata potenziata la rete ospedaliera anti-covid. Ma venendo ai dati sui nuovi positivi, diciamo subito che rispetto a ieri si registrano 526 nuovi casi di età compresa tra un mese e 95 anni. Positivi con età inferiore ai 19 anni sono 114, di cui 12 in provincia dell'Aquila, 45 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 23 in quella di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 1488 di età compresa tra 51 e 87 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo e uno in provincia di Chieti. Da aggiungere che da questa mattina il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, si è posto in quarantena volontaria in quanto sono risultati positivi due componenti del suo staff. Lanciamo dunque l'intervista all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e al sindaco di Ortona, Leo Castiglione, in merito al potenziamento della rete covid. E su questo vi saluto e restituisco la linea ringraziando Diego Martelli per il collegamento qui in diretta da Ortona. A voi studio. Si riordina la rete ospedaliera covid, altri posti letto per far fronte all'emergenza? Sì, a Chieti abbiamo inaugurato l'apertura dei nuovi posti letto di terapia intensiva, in tutto ne sono 18, 11 sono stati inaugurati oggi pomeriggio, altre 7 a fine mese. Siamo a Ortona dove è stato riorganizzato e ristrutturato tutto il pronto soccorso per la rete covid, differenziando quelli che sono i percorsi dei cosiddetti presunti positivi. Una riorganizzazione sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista di apparecchiature elettromedicali. La rete covid che abbiamo riorganizzato in tutta la regione porta a un aumento dei posti letto, a una riorganizzazione a livello di tutto il nostro territorio, in un momento in cui purtroppo la curva pandemica è in aumento, i ricoveri in terapia intensiva sono in aumento. Anche il covid hospital di Pescara è in un momento di saturazione e ha chiesto la possibilità di ricoverare i propri pazienti presso altre strutture. Signor Sindaco, potenziare il pronto soccorso significa dare risposte anche alla sua cittadinanza. Sono stati fatti proprio in questi giorni ulteriori tamponi alla cittadinanza per avere il quadro della situazione sotto controllo. Sì, dobbiamo monitorare la situazione ma soprattutto offrire un servizio che dia sicurezza ai cittadini ma anche agli operatori stessi. Questa è una risposta che va non solo a un territorio intero e quindi Ortona è un punto di riferimento importante e con quest'opera credo che arricchiamo l'offerta sanitaria di questo nosocomio.